76 anni e ancora lavoro. 76 anni e li faccio domani. Auguri. Domani faccio 76 anni e non mi secco a lavorare per niente, perché è un lavoro che mi piace. 76 anni e una vita di lavoro che non è ancora finita. Primo Valeri, classe 1948, fondatore di affilatura Mottense, azienda trevigiana che produce strumenti per la lavorazione del legno, pensava fosse arrivato il momento del riposo. E invece è ancora qui, ogni giorno in fabbrica. Causa, mancanza di personale. No, non si trova a lavoratore. Noi le due anni che andiamo in cerca di una persona non siamo capaci di trovarla. Ho trovato cinque persone che hanno provato e tutte e cinque mi hanno detto che non fa per loro. Purtroppo sono ancora alla ricerca. La solita storia, inutile cercare, non si trovano lavoratori. E così per fare andare avanti la produzione serve anche l'impegno e la fatica del proprietario, nonostante sia ormai molto vicino al traguardo degli 80 anni. Io cerco anche una persona giovane, vent'anni, venticinque anni, da fargli scuola, come ho cominciato io, come mio padre ha fatto con me, che mi ha insegnato da zero, insomma. Perché questo è un lavoro che sulle scuole non te lo insegnano. Otto ore, perché fino a otto ore è sabato casa. Non so cosa vogliono della vita. E sì, attribui abbastanza bene perché è 1600-1700 euro. Signor Primo, deve rassegnarsi altri dieci anni qui? Ah sì, sì. Fino a, come ho detto a mio figlio, fino a 80 anni tengo botta e dopo vediamo. Grazie. Grazie.